ragazzuali belli bentornati qui con me e chef fabio per un nuovo appuntamento molto curioso oggi perché come avete visto nel video di presentazione oggi andiamo a realizzare una focaccia ma non classica e no perché se mi seguite anche sulla pagina instagram qualche tempo fa vi avevo fatto vedere come realizzare una focaccia idratata non con l'acqua ma con l'acqua e il succo del pomodoro molto buona ve la assicuro siete pronti per capire e vedere come andarla a realizzare bene dai allora mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano sveliamo quindi gli ingredienti in questa bulla abbiamo 100 grammi di farina 00 in quest'altra 300 grammi di farina zero manitoba poi abbiamo l'equivalente di una bustina di malto diastasico se non ce l'avete prendete pure un cucchiaino di zucchero 10 grammi di sale 3 grammi di lievito di birra questo è dell'origano che utilizzeremo alla fine qui abbiamo 30 grammi di olio extravergine d'oliva e due pomodori da insalata che saranno proprio quelli che daranno l'idratazione alla nostra focaccia due pomodori l'equivalente di 240 grammi mettiamoci al lavoro partiamo dai pomodori dovremo andare a creare la parte liquida intanto ho preparato anche un frullatore tagliamo i pomodori anche a pezzettoni grossi e non vi preoccupate e li andiamo proprio a riporre all'interno del nostro mixer tutti i pomodori sono ora nel mixer andiamo a frullarli il consiglio che vi voglio dare nel mentre quello di andare a comprare dei pomodori sono molto morbidi quindi sceglieteli con cura perché quelli troppo duri risulteranno un pochino più acerbi e con una concentrazione di acqua minore andiamo a frullarli mi raccomando frullate per bene andando avanti per un po' di tempo che così risulteranno più liquidi i pomodori si sono frullati alla perfezione dopo 30 40 secondi sono ben omogeneizzati iniziamo il secondo step quindi mi preparo l'impastatrice sulla macchina utilizziamo il gancio lo sono già andato a mettere e nella bull vado a mettere per prima tutte le parti liquide quindi iniziando dai pomodori l'olio extravergine d'oliva e mettiamo subito il lievito così non lo facciamo entrare a contatto diretto con il sale che metteremo solo per ultimo il malto e poi le due farine come ultima cosa proprio il sale è arrivato il momento di chiudere iniziamo a lavorare l'impasto a velocità 1 questo è il risultato dopo tre minuti a velocità 1 ora richiudiamo nuovamente la macchina e andiamo a velocità 2 dopo altri sette minuti di lavorazione a velocità alta l'impasto è pronto come potete notare è un impasto ben elastico ma abbastanza appiccicoso io in genere lavoro l'impasto per 10 minuti nella macchina tre minuti a velocità bassa come avete visto e restanti sette appunto a velocità 2 sono andato a mettere un po di farina sul piano di lavoro ho recuperato l'impasto dalla bulle ma guardate qua bellissimo ben elastico gli diamo qualche giro ora con le mani prima di metterlo nella pellicola eccoci qua lo chiudiamo e lo lasciamo riposare noi nel frattempo ci prepariamo una teglia dove andrà a lievitare il nostro impasto sono andato a mettere un goccino d'olio andiamo a spennellare per bene affinché poi in cottura la focaccia non vada ad attaccarsi ho tolto dalla pellicola l'impasto o ragazzi ma che bello è cioè se pensiamo che l'abbiamo realizzato solo con l'acqua presente nei pomodori è veramente fenomenale allora io lo sto appiattendo il più possibile perché dobbiamo iniziare alla fase di lievitazione che sarà una sola non ne facciamo di più lo andiamo a mettere ora nella teglia vi faccio vedere allora dopo che l'abbiamo appiattito lo prendiamo lo mettiamo in teglia e cerchiamo di arrivare sui bordi anche vedete giriamo la teglia per bene o e ci siamo ora voi sapete anche nelle altre video ricette di lievitati che ho fatto in questo modo preparo e fatelo anche voi una bull con dell'acqua bollente e facciamo lievitare l'impasto in forno spento quindi con l'idratazione dell'acqua bollente per 7 8 ore perché abbiamo messo poco lievito ho posizionato la teglia sulla griglia siamo a metà forno come potete vedere sotto la bull creerà all'interno una temperatura ottimale ed anche un'idratazione ottimale quindi chiudiamo accendiamo la luce e lasciamo lievitare per 7 ottobre insomma fino a che vediamo crescere l'impasto esponenzialmente e poi possiamo cuocere ma guardate un po come ha lievitato è necessario ovviamente unirci di una teglia con i bordi alti proprio perché è una lievitazione ottimale produce questo risultato ho preparato una piccola ciotolina con dell'olio e un goccino d'acqua perché ora prima di infornarla andremo a spennellare d'olio mi raccomando molto delicati perché altrimenti le pareti ovviamente andranno giù soprattutto sui bordi è che sono molto molto delicati accendiamo il forno a 200 gradi ora possiamo mettere l'origano ed infine qualche fiocco di sale se non avete i fiocchi di sale potete anche utilizzare il sale grosso non c'è nessun problema siamo ora pronti per infornare è arrivato il momento della cottura noi chiudiamo il forno cuociamo a metà forno per 12 minuti finalmente la focaccia è pronta questo è il risultato ho preparato una griglia mettiamo la focaccia sopra così facciamo andare via l'ultima parte l'umidità e prendo anche un goccino d'olio e glielo metto sopra lasciamola riposare per 5 6 minuti e poi andiamo a gustarla non riposta sul tagliere ora dopo che ha riposato per qualche minuto vi assicuro che il profumo è un qualcosa di fenomenale ricorda in qualche modo anche la pizza perché ovviamente l'idratazione è quella col pomodoro con l'origano la morte è sua davvero andiamo a tagliarla tra l'altro il riposo ha fatto in modo che diventasse un pochino più morbida io la vado a tagliare così vi faccio vedere in live come è venuta guardate ma poi tra l'altro c'ha questo colore in qualche modo arancione color salmone mamma mia ragazzi buonissima come vi è venuta voi avete seguito tutti quanti i passaggi dai dai fatemi sapere qui sotto nella sezione commenti tra l'altro c'è anche il mio cagnolino che sta sentendo il profumo e vuole venire ad assaggiarla anche lui guardate che bella guardate un po morbidissima profumo come vi ho detto buono andiamo ad assaggiarla ragazzi è la fine del mondo perché in primis abbiamo utilizzato ingredienti buoni farina pomodori eccetera eccetera dopodiché avete visto ho messo pochissimo lievito non mettete tanto lievito negli impasti perché altrimenti accorciate sì i tempi di lievitazione ma poi vi fermenta in pancia mentre qua 1 2 3 grammi di lievito 7 8 anche 10 ore di lievitazione hanno permesso un risultato molto buono molto fragrante bella perché è alveolata molto bene e soffice e non vi fermenta in pancia quindi dai mi raccomando ragazzi riproponete a voi stessi e alla vostra famiglia questa bella focaccia mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ma anche la mia pagina instagram lasciate qui sotto come vi ho detto prima dei commenti un bel like che mi serve per il posizionamento e ci vediamo alla prossima video ricetta ciao ragazzi ciao ciao